Operazione Gota 3, arrestate 15 persone, tra cui una donna, per associazione mafiosa, estorsione, omicidio, intestazione fittizia di beni ed altri delitti aggravati dalle finalità mafiose. Messina, 24 luglio 2012, nella mattinata odierna in diverse località della provincia di Messina, i carabinieri del ROS e del comando provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del locale tribunale, dottor Massimiliano Micali, su richiesta del procuratore distrittuale antimafia, dottor Guido Loforte, e dei sostituti della DDA nei confronti di 15 persone indagate a vario titolo per associazione mafiosa, estorsione, omicidio, intestazione fittizia di beni ed altri delitti aggravati dalle finalità mafiose. Contestualmente sono stati sottoposti a sequestro preventivo beni per un valore complessivo stimato in oltre 15 milioni di euro. I provvedimenti scaturiscono dalla prolungata attività condotta dal raggruppamento operativo speciale, il ROS, in direzione dei sodalizi mafiosi attivi lungo la costa tirrenica della provincia, articolatasi negli ultimi anni in ripetuti interventi repressivi che hanno colpito gli esponenti della famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto e delle sue diramazioni territoriali. L'ultima tranche dell'indagine Gotta si era conclusa nel giugno 2011 con l'arresto di 18 indagati per associazione mafiosa, omicidi, estorsioni, porte e detenzione abusiva d'arma da fuoco, intestazione fittizia di beni ed altri delitti, tutti aggravati dalle finalità mafiose. L'indagine Gotta 3 ha ulteriormente circostanziato l'assetto organizzativo ed i plurimi interessi illeciti della famiglia mafiosa barcellonese, sodalizio operante nella provincia di Messina, giudiziariamente già riconosciuto in primo e secondo grado nel processo cosiddetto Mare Nostrum. Per MNews.it Luigi Palamara